Per una festa di innamorati perfetta, cosa c'è di meglio che una commedia divertente che faccia sognare? Alessandro Siani, attore irresistibile con la sua comicità tutta napoletana è passato dietro la macchina da presa per il principe abusivo, film di cui chiaramente è anche protagonista assoluto, insieme alla bella Sarah Felberbaum. Al fantastico Christian Andesica, una serena autieri informissima nonostante ormai manchi meno di un mese al parto, a Marco Messeri e Alan Cappelli. Nelle sale dal 14 febbraio la pellicola racconta la storia di una principessa che per guadagnare la popolarità tra la gente comune si fidanzerà con un popolano. Il giovane Rozzo Antonio, esperto di una vita fatta di espedienti, dovrà conquistare la... Grazie. Grazie.